Preside Olimpia Tedeschi, prende forma il progetto EduGreen, un'aula didattica all'aperto. Sì, grazie a Dio dopo un anno e mezzo di combattimenti siamo riusciti a cominciare a vedere le prime cose. Oggi proprio stiamo lavorando perché i ragazzi non ci sono a scuola per la pausa del calendario scolastico regionale e quindi abbiamo approfittato per dare spazio ai giardinieri che stanno piantando il prato verde. Le zolle verdi è un'erba vera per la verità. Le piante qui a cespuglio lungo la ringhiera, pianteremo anche un piccolo agrumeto e poi stiamo completando il gazebo che era già stato realizzato con i fondi comunali. Poi questo lavoro sarà fatto anche in un'altra aula interna della scuola dove realizzeremo un angolo didattico all'aperto con una piccola stazione meteorologica e le serre per la germinazione, in modo che i ragazzi avranno l'opportunità di comprendere tutto il percorso che il seme fa sotto la terra, comprendere l'acidità del terreno, l'importanza dell'acqua per rinnaffiarlo, del sole, della temperatura e coltivarlo e poi avere anche i frutti, raccogliere i frutti. Quindi questi spazi a 360 gradi come saranno utilizzati? Saranno utilizzati sia per le attività didattiche inerenti alla scienza e quindi loro faranno proprio degli studi all'aperto, sia di botanica, anche esperimenti perché li attrezzeremo come dei laboratori scientifici all'aperto ma anche come luoghi di svago dove i ragazzi si possono ritrovare per fare merenda, per discutere di qualche argomento. Insomma, si devono appropriare anche di questi spazi che prima erano un po' morti e soprattutto poco verdi. Nel nostro potofo noi abbiamo dato grande spazio all'educazione ambientale e ecosostenibile, alla luce anche delle indicazioni europee, l'agenda 2030. Quindi queste attività sia negli orari curriculari che extracurriculari? Sì, in prevalenza in orario curriculare, però ci sono anche i momenti di attività extracurriculari e degli angoli verdi li stiamo realizzando e li realizzeremo nei prossimi giorni anche nel plesso Montessori, dove c'è meno spazio all'aperto ma stiamo pensando in uno spazio ad un piccolo orto, sia a Giovanni Paolo, dove sfrutteremo l'aiuola interna per realizzare quest'angolo verde con dei cassettoni, delle piante aromatiche, in modo che anche lì i bambini hanno questo contatto diretto con la natura. Sono temi quelli dell'educazione ambientale che la scuola porta avanti già da tempo, esiste infatti già un piccolo orto e con l'aiuto dell'associazione Torre Vesuvio Pro Natura i ragazzi già si cimentano in varie attività. Sì, profitto per ringraziare il signor Belfiore e tutta l'associazione che con il progetto Coloriamoci di Verde sta educando i nostri alunni delle classi prime della secondaria di primo grado al senso dell'ambiente, alla coltivazione, allo studio delle piante. Infatti come potete vedere c'è un piccolo orto a cui stanno lavorando i ragazzi di prima A e prima D con la professoressa Nasi e tutte le settimane c'è questo momento di coltivazione. Adesso sono spuntati pure le primi germogli di fave e quindi a breve avremo anche un raccolto. Quindi i ragazzi si entusiasmano per queste attività? Sì, i ragazzi lo fanno veramente con tanto piacere, con tanto entusiasmo e si rasserenano molto a contatto con la natura e questo ci fa molto piacere.